L'Elia, Cossidente e Odissea Mendolagine sono una coppia di coniugi per la quale è stata aperta la causa di beatificazione il 18 giugno 2004. Forti nella fede, assidui nella preghiera quotidiana ed esempio di santità laicale e coniugale sono un riferimento per le coppie e le famiglie cristiane. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, Tu hai voluto l'uomo e la donna uniti per sempre con il sacramento del matrimonio, segno del Tuo amore per l'umanità. Per intercessione di Lelia e Odisse, sposi e genitori secondo il Tuo cuore, concedi che nelle nostre famiglie regni la serenità, l'armonia e l'amore. In particolare ti chiediamo la grazia che tanto desideriamo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diffondere la preghiera è la più bella lode al Padre. Puoi invitare a conoscere il canale e altre persone condividendo i link sui social. Se ti fa piacere sapere quando verranno inserite nuove preghiere, iscriviti e clicca sulla campanella. Grazie per aver pregato con noi. Dio ti benedica. Grazie.